eccoci bentrovati cari amici e care amiche prosegue la rubrica da casa con naturalmente sempre grazie alla vostra attenzione del vostro calore al vostro sostegno ci trovate come sempre e come questo momento su facebook naturalmente anche come sapete ormai da tempo su youtube e anche come podcast su spotify e poi ringrazio sempre gianni ricci per trasmetterci sulle due radio in 65 paesi al mondo e grazie a voi anche se vorrete condividere questa conversazione su questo canale o sugli altri appunto che ho citato questa sera come vi anticipavo un ospite davvero straordinario e ve lo presento immediatamente è il direttore artistico del teatro reggio di torino il dottor cristiano sandri buonasera dottor sandri benvenuto ora buonasera a tutti grazie grazie mille e allora noi come dico sempre trattiamo di quei momenti cruciali simbolici nella vita di ciascuno quei momenti quelle slide indorsa anche quei momenti che catalizzano tante energie anche che sono state messe in campo e che sono poi di trasformazione che danno il via che danno l'abbrivio momento di grande realizzazione di stè che sono anche a volte la somma naturalmente di tanti piccoli momenti di una lunga costruzione non ci capitano sempre dall'alto naturalmente anzi spesso tutt'altro ecco lei poi ha un curriculum davvero eccezionale e anche eccezionale per oltre che per i grandissimi risultati raggiunti ma anche proprio nella capacità di tenere insieme competenze passioni interessi diversi è un curriculum anche fatto di incontri collaborazioni con i più grandi della musica ecco quindi mi fa piacere chiederle maggior ragione c'è anche la curiosità i punti di svolta appunto del suo percorso finora allora ben tanto grazie per le sue parole gentili diciamo che io ritengo la mia storia una storia abbastanza singolare abbastanza particolare direi anche fortunata per i per i vari episodi e le slide indoors che lei giustamente cita che mi hanno come dire consentito di realizzare quello che fin da bambino era un sogno io vengo da un paese della provincia di verona vicino al lago di garda e i miei genitori non erano particolarmente appassionati di teatro ma in casa c'era c'erano molte registrazioni molti dischi d'opera e di musica classica e quindi fin da piccolo ho iniziato a studiare il pianoforte poi ho studiato il suo autotraverso insomma la musica ho capito subito che era come dire una era un aspetto della vita che volevo approfondire che che mi piaceva molto mi divertiva molto ovviamente da ragazzo era appunto più un divertimento che un lavoro pian piano dentro di me però sia sempre più fatta la strada l'idea che dovesse diventare o potesse diventare un come dire un'occupazione più strutturata più 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 principale non una cosa di passatempo diciamo più se non esatto anche se all'epoca non non era chiaro quale potesse essere la strada il percorso giusto per arrivarci anche perché questo tipo di lavoro un lavoro che non ha come dire delle dei percorsi così come dire omologati credo che qualunque dei miei colleghi che le raccontasse la propria storia racconterebbe probabilmente una storia molto diversa una dall'altra e quindi all'inizio è un sogno che ho coltivato abbastanza così da solo senza senza pensare che realmente un giorno sarei riuscito a realizzarlo e quindi ho proseguito poi gli studi anche canonici quindi liceo poi università esame di stato sono diventato avvocato quindi ora ho rassicurato la famiglia che cominciava essere un po preoccupata del fatto che volessi seguire una strada più artistica che convenzionale diciamo e li ho rassicurati e quindi ho proseguito il percorso che era stato in qualche modo mi era stato in qualche modo destinato ma non abbandonando mai la lo studio degli strumenti e la passione per il teatro finché un giorno è un episodio che racconto spesso se mi permette racconterei anche in questa lo trovo abbastanza significativo e io un fratello che è veterinario ed è direttore di un parco zoo delle nostre zone di verona un giorno lo dovete accompagnare al lavoro perché aveva un problema alla macchina e nell'accompagnarlo pensai ma cosa c'è di più bello nella vita che fare un lavoro che corrisponda alla propria passione e quel giorno è come se non so un seme fosse entrato e cominciasse a crescere a lavorare fino a che mi decisi a fare una cosa piuttosto istintiva e non troppo come dire non troppo ragionata mi decisi a bussare alla porta di un'agenzia io conoscevo il mondo del teatro da spettatore non sapevo esattamente che cosa fosse un'agenzia ma conoscevo una cantante lirica che era rappresentata da un'agenzia situata a verona e bussai alla porta di questa agenzia tornavo dal tribunale e quindi stava già lavorando sì avevo iniziato a fare praticantato poi ho fatto anche l'esame in realtà ho esercitato quasi un anno prima di cambiare diciamo strada e ambito lavorativo e devo dire che mi piaceva anche il mestiere dell'avvocato però insomma sentivo che la passione per la musica era portava dall'altra parte esattamente e quindi bussai a questa porta e non avendo idea di cosa mi sarei aspettato e credo che in qualche modo la vita mi abbia aiutato in quel momento perché quella porta si è aperta e quel mondo in quel momento si è aperto per me nel senso che l'agenzia mi accolse un po sorpresa perché mi sono presentato lì senza un curriculum in mano e senza sapere esattamente ripeto che cosa avrei dovuto dire come mi sarei dovuto presentare però ho semplicemente raccontato la mia storia i miei studi le mie passioni e mi fu risposto noi staremmo cercando un collaboratore proviamo a vedere cosa succede quindi iniziai facendo una doppia vita il mattino lavoravo in studio e il pomeriggio andavo a lavorare in agenzia questa cosa piano piano ha preso piede nel senso che l'agenzia era molto soddisfatta del mio lavoro io capivo che questa questo tipo di ambiente mi piaceva decisamente di più di quello giuridico che comunque non rinnego c'è l'esperienza la formazione che ho ricevuto mi sono state utilissime mi sono tuttora utilissime e quindi lo ritengo come dire un percorso un po' anomalo un po' bizzarro ma del quale sono comunque contento perché mi ha mi ha formato in modo da poter sempre affrontare le problematiche che ahimè sono spesso poco artistiche e molto più gestionali pratiche operative e la mentalità del giurista mi ha sempre aiutato ad affrontarle assieme ovviamente a quella del musicista quindi sono due sono due aspetti che sono sempre andati insieme però uno ha supportato sempre l'altro e quindi fui preso dopo qualche mese smisi praticamente di andare in studio e seguì solo la strada dell'agenzia finché tramite le conoscenze di lavoro venni chiamato a fare un colloquio a firenze al teatro del maggio musicale fiorentino e che anche lì come dire altra altra occasione insomma maggio musicale fiorentino è proprio penso il faro è l'obiettivo per direi in ambito nazionale o internazionale insomma stiamo parlando di una delle istituzioni musicali più importanti e storicamente più prestigiose che che abbiamo nel nostro paese quindi fui chiamato e dopo un anno da quel colloquio mi fu offerto un contratto come casting manager e devo dire fu come lì veramente fu l'inizio del sogno del realmente del sogno che si stava realizzando e in un teatro importante in una città meravigliosa e e ci fu uno dei degli incontri forse più importanti della mia vita che fu quello col maestro dubin meta perché era ed è ancora il direttore principale del del teatro e all'epoca anche direttore musicale insomma è devo dire una delle personalità artistiche e mi permetto anche umane più importanti della mia vita a cui sono sempre stato legatissimo e ce ne sono tante adesso nel corso di questo colloquio qualcuna verrà citata qualcuna no non lo faccio per per ordine di importanza ma perché sono magari quelli che mi vengono in mente così spontaneamente perché grandissimi incontri come diciamo all'inizio grandissime collaborazioni appunto con quelle figure di questo calibro ecco devo dire che a Firenze ma anche poi negli altri teatri dove sono stato e quello in cui sono ora di artisti di livello ne ho incontrati tanti però ecco in quei primi anni davvero ci furono delle delle esperienze indimenticabili il maestro meta con cui potei lavorare fino alla alla fine del contratto a Firenze ma da lì passarono tutti i più grandi Seiji Osawa il maestro Muti il maestro Claudio Abbado e Biccov veramente i più grandi registi i più grandi musicisti i più grandi solisti e li avevo tutti a portata di mano quindi fu davvero un inizio diciamo così Sì no ma poi immagino per qualunque ragazzo ritrovarsi in una situazione così ma addirittura poi con come dire se pensiamo no l'aggiunta di questa scommessa perché avendo portato avanti anche un altro percorso poi questa forza no di scegliere il coraggio di scegliere anche la via meno sicura naturalmente rispetto a quella all'attività forense Perché lo scluderà di mio padre è di mio padre tuttora quindi come dire ho veramente il certo per l'incerto e non avevo idea di quanto poi questa strada sarebbe andata avanti però come dire accettai subito con grande entusiasmo e senza mai avere un ripensamento e devo dire mio padre fu anche all'epoca generoso nel lasciarmi andare senza Sì 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 bisogna essere bisogna esserlo in effetti immagino perché però quando uno vede Sono molto soddisfatto sono molto soddisfatto ovviamente della della strada che nel frattempo insomma è stata fatta però all'epoca sembrava veramente una scommessa e come dire uno Sì aveva un salto nel vuoto Sì lo era lo era a tutti gli effetti però devo dire guardandomi indietro farei esattamente quello che poi ho fatto nel senso che arrivarci appunto con un percorso diciamo pure anomalo perché magari altri altre persone di questo ambiente hanno fatto dei percorsi un pochettino più canonici nel senso che ci sono arrivati come dire con un percorso un pochettino più lineare Però nonostante questo direi che non me ne pento sono comunque felice Eh immagino immagino Con i risultati poi che ha raggiunto cioè i risultati raggiunti poi naturalmente non possono che confermare le scelte fatte ecco Vabbè diciamo che sì mi ritengo io dico sempre comunque anche fortunato sicuramente mi sono impegnato molto ho anche sacrificato tanto ecco perché comunque sono mi mi sono volontariamente sradicato dalla realtà d'origine e sono arrivato a Firenze poi da Firenze sono stato chiamato a Parma da Parma sono stato chiamato qui nel frattempo c'è stata anche una piccola parentesi cagliaritana c'è stato un momento anche questo lo racconto così perché il Lo ritengo più un aneddoto che in questa sede magari è interessante raccontare ci fu un momento in cui io lavoravo contemporaneamente in tre teatri fu anche quella una piccola sfida forse una piccola follia però Nella vita bisogna anche sapersi mettere in gioco non era una questione di avidità semplicemente ero a Firenze mi fu chiesto di iniziare un percorso a Parma un percorso che permetteva diciamo la convivenza dei due impegni e in quel momento arrivò anche una richiesta da parte di Cagliari che era molto limitata richiedeva un impegno assolutamente esiguo Esiguo in termini diciamo di orario lavorativo e quindi diedi anche questa disponibilità fu poi un'esperienza di sei mesi quindi non così significativa però è stato un passaggio anche lì e devo dire che articolare come dire la settimana su tre teatri in città diversa addirittura uno fuori dalla come dire fuori dalla penisola insomma è stato un po' complicato è stato un po' faticoso ma è stata comunque un'esperienza arricchente e che appunto di cui sono felice e grato perché tutte le persone che mi hanno permesso di fare questa esperienza sono persone che mi hanno dato fiducia e alle quali devo sempre e solo dire grazie Diciamo che poi da parte mia c'è stata una grande disponibilità E certo sì perché poi diventa anche faticoso però ci sono quelle fasi nella vita in cui uno ha anche bisogno di mettere insieme tante esperienze ecco e il desiderio proprio di farlo il più possibile E poi gli incontri Sì appunto gli incontri artistici, gli incontri manageriali nel senso che ci sono state molte sovrintendenti, direttori artistici che mi hanno coinvolto e mi hanno dato la loro fiducia però e mi hanno anche segnato moltissimo E poi ci sono stati gli incontri artistici, ho citato il maestro Meta, vorrei citare anche un altro grandissimo artista che mi manca molto perché purtroppo ci ha lasciati che è Gran Vic Una persona, un artista con cui ho avuto la fortuna di collaborare e che avrebbe dovuto mettere in scena poi lo spettacolo di fatto che è stato il suo testamento Cioè il ballo in maschera che è stato messo in scena al Festival Verdi il settembre successivo alla sua scomparsa Quindi fu un legame preziosissimo che davvero mi ha fatto imparare molto ed è uno degli artisti che hanno segnato anche il mio percorso Nel senso che ho imparato da questi grandi che questo lavoro, che ovviamente come tutti i lavori ha degli aspetti naturalmente complessi Anche, come dire, emotivamente, non so, non riesco a descrivere questa... cioè ci si arrabbia, non so come dire, ci si arrabbia spesso Sono lavori che se uno fa con passione e con coinvolgimento portano ad essere spesso nervosi, preoccupati Sì, perché anche il desiderio ovviamente del risultato Certo, per portare il maggior risultato possibile e per farlo, diciamo, senza creare troppi problemi nel percorso che porta all'andata in scena Quindi, diciamo, ci si sente sempre molto, come dire, molto coinvolti e questo, a differenza di altri tipi di lavoro, non lo si può a un certo punto eliminare Cioè non c'è un momento della giornata in cui uno può, diciamo, chiudere il computer o uscire da un ufficio e non pensare più a quella problematica Purtroppo, per fortuna, insomma, è un tipo di lavoro che resta con noi in qualsiasi momento della giornata della settimana E questo sicuramente è un impegno e un sacrificio E però, dall'altra parte, dicevo, ho imparato come se lo si fa con questo tipo di attitudine C'è anche un grande, insomma, tendenzialmente ci dovrebbe essere anche un ritorno in termini di risultato e di efficienza E' così, penso, forse in ogni ambito della vita possa essere così Ma in quello del teatro, dove c'è uno spettacolo che va in scena, dove c'è un pubblico che viene a giudicarlo Non so come dire, è un tipo di attività dove c'è proprio una preparazione, un'esibizione e un giudizio Quindi c'è sempre la preoccupazione e la tensione verso il risultato che poi viene sottoposto al giudizio dello spettatore Quindi questo tipo di costante tensione, dal mio punto di vista, è un po' particolare Anche quando si fa l'avvocato e si deve andare, come dire, a difendere una parte in un procedimento E si ha la paura che la propria parte possa perdere E' una tensione ed è un giudizio, c'è un giudizio dall'altra parte Però mi sembrano due piani un po' diversi, non so come dire Una platea come può essere quella del teatro Rezio, come dire Può spaventare dal mio punto di vista, non so se mi sto spiegando Molto di più che perdere una causa per magari un piccolo, insomma, un piccolo Comunque un interesse privato che può avere una valenza relativa Ecco, un spettacolo nell'ambito di una città importante come questa E' una responsabilità proprio rispetto a una comunità Esatto, c'è una responsabilità appunto anche nei confronti di tutti quelli che poi assistono O lavorano nell'ambito dello spettacolo Quindi c'è sempre questa costante preoccupazione e tensione Però, ripeto, ho imparato dai grandi che ho avuto la fortuna di frequentare Che se lo si fa con convinzione E mi permetto di dire con onestà e con chiarezza E con sincerità Nei limiti ovviamente del possibile Perché la diplomazia fa parte anche di questo tipo di lavoro Poi in qualche modo si riesce ad arrivare Si riesce a far arrivare l'impegno e la dedizione E la sincerità che ci si mette nel fare questo tipo di attività Che è veramente un'attività che non ha Non si può studiare in un manuale Non so come dire Le regole ci sono Ma ogni giorno si creano delle circostanze completamente nuove E sorprendenti Che vanno affrontate con lucidità E con un po' di esperienza Con un po' di creatività E cercando di essere il più seri e professionali possibile Ma mantenendo O cercando di mantenere anche il sorriso e il divertimento Perché comunque Torniamo al discorso che facevamo all'inizio Questa è anche una passione E vorrei che non abbandonasse mai Il mio spirito nell'affrontare questo lavoro Vero Ad oggi non è successo Grazie a te Scusi Forse mi è interrotta No no Dicevo che ad oggi non mi ha abbandonato la passione No 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 Infatti si percepisce assolutamente Sia nella produzione Sia anche adesso Ecco dalle parole Ed è fondamentale sicuramente Ma che cosa significa per chi ci segue Fare il direttore artistico di un teatro così importante come il Regio di Torino? Beh è un grande impegno Lo dico così molto candidamente È un grande impegno C'è anche una grande C'è un grande ritorno in termini comunque di soddisfazione Assolutamente Comunque fare il direttore artistico significa occuparsi di tutta la parte Diciamo di realizzazione di spettacoli che avviene nell'ambito di un teatro Che può essere propria cioè di produzione proprio oppure di ospitalità In confronti di uno spettacolo che viene portato nel teatro e non prodotto dal teatro Ovviamente questo che può sembrare come dire un aspetto non così complesso Ha invece un percorso complessissimo e anche piuttosto lungo e articolato Nel senso che c'è una fase in cui si decide che cosa si farà E questo dovrebbe avvenire in tempistiche il più possibile anticipate Poi naturalmente per le vicissitudini varie che hanno portato la mia nomina a gennaio Ovviamente io ho dovuto fare un lavoro in termini piuttosto compressi Nel senso che la stagione l'abbiamo presentata a inizio giugno E quindi insomma È chiaro che è stato fatto Sì, insieme al sovrintendente è stato fatto un lavoro Devo dire, in contempistiche che non sono proprio quelle regolari Però in ogni caso quando si presenta questo tipo di situazione Va affrontata così com'è Non è che si possa poi dilattare il tempo È quello che è Però in una situazione diciamo più regolare L'anticipo rispetto alla programmazione dovrebbe essere molto maggiore Si parla di due, tre anni all'estero Devo dire Dove in generale i teatri sono molto più avanti rispetto a noi in termini di programmazione Si parla anche di cinque, sei anni Addirittura Sì, che secondo me è quasi esagerato Nel senso che riferendosi per esempio ai cantanti Senza parlare di altri tipi di artisti Insomma, prevedere che un cantante fra sei anni Abbia ancora lo stesso tipo di freschezza vocale Lo stesso tipo di repertorio Secondo me può essere anche un po' rischioso Però questo ognuno fa Diciamo che due, tre anni invece Tre anni sarebbero un tempo giusto, comodo Per poter programmare senza fretta E potendo anche contare su maggiore disponibilità degli artisti Perché più si va avanti E meno poi gli artisti sono liberi Quindi si è costretti poi a fare delle scelte Magari che non sono quelle ideali Si fanno, ovviamente fa parte del lavoro di ciascuno di noi Che hanno la responsabilità delle scelte artistiche Però sarebbe bello poter sempre scritturare L'artista che ci piace di più O comunque che pensiamo sia più adatto O che sia più consono al pubblico che viene a teatro Ecco, questo non sempre è possibile E magari si deve scendere, come dire, c'è una lista Dalla quale poi piano piano si deve scendere Che non significa poi di prendere un artista meno valido Magari che non era il primo o il secondo a cui si era pensato Quindi l'anticipo della programmazione Consente di poterla fare Maggiormente rispondente ai propri gusti Al proprio obiettivo artistico Naturalmente tutto ciò viene in collaborazione Con il sovrintendente Che ha una parte fondamentale in questo processo Perché comunque sovrintendendo al teatro Ha la responsabilità soprattutto finanziaria E quindi tutto quello che viene deciso Deve avere di base la prospettiva di una copertura A livello economico finanziario Quindi insomma quella è la base E tutto il percorso poi di sviluppo della programmazione Avviene sempre insieme al sovrintendente In questo teatro avviene così E io trovo che sia assolutamente un processo virtuoso Perché le due cose nel momento in cui cominciano A non essere sempre parallele o diciamo concatenate Possono provocare dei problemi Perché se uno programmasse senza preoccuparsi Del fatto che quello che si programma Sia sostenibile economicamente Poi ci si può trovare con il rischio Che a un certo punto Nascano dei problemi Che ovviamente dobbiamo cercare di evitare Quindi questo percorso Poi via via si sviluppa Nell'idea di una programmazione Un calendario dove si stabilisce Mese per mese Quali tipi di spettacoli Quanti tipi di spettacoli si vogliono rappresentare Poi ci sono delle richieste anche di collaborazione Oppure il teatro avanza Delle richieste di collaborazione ad altri teatri Quindi possono nascere delle coproduzioni Delle ospitalità in questo senso E una volta che Diciamo la programmazione È disegnata Poi bisogna cominciare a riempirle Queste caselle Quindi si incaricano i vari artisti In questo caso per esempio Quando si parla di uno spettacolo d'opera C'è un regista Un team creativo Che deve elaborare un progetto Presentarlo Farlo approvare dalla direzione E iniziare a realizzarlo Internamente e esternamente al teatro A seconda dei casi E quindi poi si attivano Tutta una serie di meccanismi Che coinvolgono i laboratori del teatro Quindi la sartoria I laboratori Tutto il palcoscenico Che viene costantemente coinvolto Anche nella valutazione Di quelle che possono essere Le difficoltà Della messa in scena di uno spettacolo E poi ci sono tutte Tutte le fasi di prova E di Come dire Quelle più legate Allo spettacolo vero e proprio Cioè Che sia un concerto Che sia uno spettacolo di balletto Che sia uno spettacolo d'opera C'è il momento in cui iniziano Le prove Dello spettacolo E lì ci sono Una Miriade di variabili Che possono accadere Dall'artista che non sta bene Dalla problematica relativa All'allestimento Che deve essere corretta Per poter poi consentire L'andata in scena Senza problemi L'imprevisto Tecnico L'imprevisto Magari artistico Nel senso che Non so Quel cantante Con quel direttore d'orchestra Con quel regista Possono non Come dire Non trovarsi Diciamo sempre Sulla stessa Così Sulla stessa linea Quindi Bisogna intervenire Bisogna mediare Bisogna Partecipare alle prove Per verificare Che tutto proceda Come dovrebbe procedere Quasi mai Succede Che tutto Tutto fili Perfettamente Devo dire che anche Sembra strano Che lo dica Ma è anche il bello Di questo lavoro Nel senso che Questo lo rende Chiaramente stressante Ma anche molto interessante Perché Partecipare Allo sviluppo Cioè alla nascita Del progetto E allo sviluppo Del progetto È ciò che rende Il nostro lavoro Secondo me Unico E ciò che ce lo fa Ce lo fa fare Nel senso che Appunto I sacrifici Vengono poi Ripagati Dalla soddisfazione Di vedere Andarece A uno spettacolo Che ci si augura Sempre possa avere Grande successo Non sempre succede Però Come dire L'attitudine Deve essere Dal mio punto di vista Quella sempre Del metterci Il massimo impegno Possibile Affinché Si realizza Uno spettacolo Di qualità Ripeto Ci sono Delle congiunture Non sempre Sotto il nostro controllo Che ne condizionano L'esito Ma Il nostro compito La nostra responsabilità È quella di Evitare Che la congiuntura Avversa Possa pregiudicarlo Si fa il possibile Devo dire Un esempio Che posso fare Sono le sostituzioni A me è capitato Un paio di settimane fa Avevamo in scena Al piccolo regio A Maria Laporte Quest'operetta di Offenbach Devo dire Molto graziosa Molto divertente Però è un Un repertorio Che si rappresenta Pochissimo Addirittura Anche in Francia Non si rappresenta molto E una sera Avevamo Un artista Che all'improvviso È stato ricoverato In ospedale Per un problema Per fortuna Che poi si è risolto In 24 ore Ma in quel momento Il giorno della recita Non era risolvibile E lì Ho pensato Seriamente Che la sera Non saremmo andati in scena Quando sono stato chiamato Dall'artista Per dirmi Sono ricoverato in ospedale Io questa sera Non so neanche se mi dimettano Ma non credo in ogni caso Di avere le forze Di poter Andare sul palco Io ho comunque Fatto un tentativo Questa operetta Era stata rappresentata Quattro anni fa A Firenze E quindi c'era Un artista in Italia Che l'aveva già cantata Ho provato anche in Francia Ma non avevo ricevuto Nessun tipo di riscontro concreto Quindi ho provato A chiamare questo artista Che era in prova a Roma Tra l'altro Uno spettacolo Importante Che era In fase finale Quindi era una delle ultime prove Prima della prima E incredibilmente Il teatro E il regista Si sono dimostrati Diciamo Solidali E disponibili E devo dire Molto generosi Quindi Questo ragazzo All'uno ha preso un treno Mentre era in treno Si è ripassato La parte Io gli ho mandato Un video Dello spettacolo Che lui In treno Si è guardato E è arrivato qui E con la collaborazione Di tutte le persone Che lavorano in teatro Che io In questa occasione Ringrazio Perché senza di loro Dico sempre Il mio O comunque il lavoro Di chi sta Diciamo in questo piano Del teatro Non avrebbe nessun senso Non avrebbe nessuno sviluppo Perché se non ci sono Tutte le preziosissime Maestranze Che in questo teatro Sono davvero di alto livello Se non ci fossero loro Noi non potremmo fare nulla E devo dire Un'occasione come questa Di grande Come dire Era una situazione Di disequilibrio Perché arriva Un cantante Che non ha mai fatto Lo spettacolo Non ha mai visto i colleghi Non conosce E invece Con una mezz'oretta Di prova Poi lo spettacolo È andato in scena Devo dire Noi abbiamo naturalmente Fatto l'avviso Prima Ma Io che ho visto lo spettacolo E sono sicuro Che gli spettatori Che non avevano visto Lo spettacolo I giorni precedenti Le posso assicurare Che è andato in scena Senza nessun intoppo Particolare E questo lo trovo Quasi miracoloso Lo trovo quasi miracoloso E però è il bello Della Di questo spettacolo Cioè fino a 8 ore prima Avrei pensato Che avremmo cancellato E poi invece Lo spettacolo Si è fatto regolarmente E senza incidenti Veramente Impressibile Bellissimo E tra l'altro Questo è un spagiale Eh Scusi No niente Volevo fare una battuta Così Perché non voglio essere Troppo serioso La Sartoria Mi ha ringraziato Perché ho trovato Il sostituto Che avesse le misure Quasi identiche A quelle del cantante E' vero Perché c'è anche Quel tema Effettivamente E' arrivato Fisicamente in teatro Un'ora prima Della andata in scena Pazzesco Pazzesco Beh complimenti Ancora di più E tra l'altro Una stagione Che è iniziata Veramente Con grandissimo successo Questa Abbiamo usato Spesso la parola Sfida Riferita a Juif Devo dire Che lo è stata Però Alla fine Siamo stati ripagati Di questo rischio Che il teatro Ha preso Con un'opera Che comunque Io trovo Bellissima E straordinaria Chi è venuto a vederla Lo ha Confermato Unanimemente In ogni caso Titolo impegnativo Titolo grande Da tutti i punti di vista Che credo Abbia rappresentato Però Una Vorrei dire Insomma Una bella Un bel segnale Una bella Una bella apertura Nel senso di un bel segnale Che il teatro ha dato Nei confronti della città Ma non solo della città Perché poi Quest'opera Sono venuti a seguirla Moltissime persone Da fuori Torino E da fuori Italia Questa è stata Un grande Sì Grandissima Ci sarebbe Veramente Da parlare Per ore Ma So che Appunto Il lavoro Preme Le chiedo Se mi consente Ancora Due cose Velocissime Uno Se suona Ancora Se lei continua A suonare Allora Le rispondo Che mi piacerebbe molto Ma non ho il tempo Di farlo Mi manca Mi manca Perché nasce da lì Insomma Il fare musica È ciò che mi ha portato Qui Ma non ho fisicamente Il tempo Posso immaginare E poi Che musica Lei predilige? Allora Guardi C'è 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 Però Non vorrei che sembrasse Una risposta diplomatica Perché in realtà È veramente Quello che penso Iniziando a lavorare In teatro Mi sono reso conto Che Il mondo della musica È talmente vasto Che è veramente Un peccato Limitarlo Con le proprie Preferenze Io ce le ho E gliele posso dire Senza nessun problema Ma Tutti i tipi di repertori Non solo in ambito peristico In ambito sinfonico Ma anche nell'ambito Per esempio Del repertorio di balletto Che è un mondo Che ho conosciuto Un po' più avanti Iniziando a lavorare a Firenze Ho avuto l'occasione Avendo un corpo di ballo Ancora all'epoca Il maggio musicale Ho avuto anche lì La grandissima fortuna Di poter approfondire Anche quel tipo di conoscenza Che fino a quel momento Non era stata così approfondita E quindi Sono tutti i repertori Tutti i ambiti Che hanno Delle sorprese Delle meraviglie Oltre ai grandi capolavori Che tutti conosciamo Che tutti apprezziamo Che è un peccato Limitarle Quindi Diciamo Io Potessi scegliere Amo molto il bel canto Amo molto Diciamo Non so Rossini Bellini Donizetti Sono Tra i compositori Che amo di più Mozart È un compositore Che adoro Ma Poi Nella mia Diciamo Nel mio ambito professionale Mi sono confrontato Con tantissimi altri Tipi Di Compositori E ho capito Che Sono tutti Assolutamente Straordinari Ovviamente Non so È più difficile Che magari Mi metta una sera Ad ascoltare Per rilassarmi Un'opera di Anacek Non so come dire Però Detto questo Quando abbiamo fatto La piccola volpastuta O il caso Macropolis A Firenze Io Sono Devo riconoscere Che sono state Tra le esperienze Più belle Più significative Più importanti Della mia carriera Quindi Non so se mi sto spiegando Magari Ascolto più volentieri Un'opera di Bellini Se sono in treno E mi devo Svagare Dopodiché Ho lavorato a Parma E penso che Verdi Sia un compositore Straordinario Adesso stiamo festeggiando L'anniversario Puciniano E Bohème Che avrò Ascoltato Penso Centinaia di volte Perché la Bohème Credo veramente Che sia un'opera Tra quelle Che ho ascoltato Di più Nella mia vita Anche prima Di fare questo lavoro Eppure io riesco A emozionarmi ancora Io le confesso Che quando Rodolfo si getta Su Mimì Anche qui Non voglio sembrare Così ruffiano Io piango Comunque mi commuovo E trovo che sia Una fortuna Che succeda Perché vuol dire Che il lavoro Riesce Ad emozionarmi A coinvolvermi Quindi Ci sono Ripeto Delle preferenze Però Alevi Per esempio Che è un compositore Quasi sconosciuto Mi ricordo Che Juiv Io la conobbi Anni fa E subito Me ne innamorai E Alevi Ha scritto altre opere Meierberg È un compositore Che mi piace moltissimo Ci sono tanti compositori Che in Italia Si frequentano poco E che io trovo straordinari Ciò non significa Che magari L'anno prossimo Li vedrete nel programma Perché poi La scelta Deve tenere conto Ovviamente Di tutta una serie Di considerazioni Che questa Ovviamente Non può essere la sede Per rivelarle Ma anche perché Ritengo che sia Che sia bello Avere la sorpresa La curiosità Di aspettare Quindi no È vero Non svelerei mai Quello che si pensa Di fare Quello che posso dire Che anche Nella prossima stagione Ci saranno dei titoli Molto poco frequentati In Italia E questo È importante E credo che per Torino Sia importante Nel senso Che per Torino Come per tutti i grandi teatri Sia importante Perché Chiaramente C'è una parte di pubblico Che preferisce Il repertorio Più Diciamo Più rassicurante Sì Perché comunque Andare a vedere Un'opera di cui Non si ha idea Può spaventare Devo dire Che in questo senso Forse Il periodo del covid Ha un po' condizionato Lo spettatore Nel senso che Magari Mentre prima Era più naturale Era più Normale Andare a teatro Adesso forse Per mille motivi Può diventare Un po' più Un po' meno Un po' meno naturale Quindi uno Dice Perché devo andare a vedere La Juif Stasera Forse sto a casa A guardare La partita Ecco invece Poi Chi ha Vinto Questa reticenza Sicuramente Ne è stato soddisfatto Però Lo capiamo Io lo capisco E noi Lo capiamo È normale Credo Che un teatro Deba Presentare L'uno e l'altro Quindi Il repertorio Anche in termini Di allestimenti Qualcosa di più tradizionale Qualcosa di un po' più innovativo Perché comunque I gusti del pubblico Sono sempre vari E quindi Prediligere Una parte Rispetto all'altra Vorrebbe dire Rischiare Di danneggiare Di perdere Poi Una parte del pubblico E credo che questo sia un rischio Che non possiamo correre O non dobbiamo correre No no E poi Insomma Comunque Guardare avanti Creare Offrire E dare Sempre più occasioni Anche per crescere Al pubblico Quindi Penso Io la ringrazio tantissimo Le lascio ancora La parola Se vuole aggiungere Appunto Altri punti di svolta O per i saluti O per quello che ritiene Guardi Finisco dicendo Che Torino mi ha accolto Quando sono stato nominato qui Qualcuno mi diceva Torino è una città un po' chiusa Magari farei fatica Devo dire Nessuna delle città Dove sono arrivato Mi ha accolto a braccia aperte Nel senso che comunque Sia a Firenze Che a Parma È stato complicato Inserirsi Ambientarsi E trovare Come dire Un'amalgama Devo essere sincero Che a Torino Ho trovato meno difficoltà Il teatro E la città Sono stati Dal mio punto di vista Molto aperti Poi Sono certo Che le critiche Non mancano Non mancheranno Sono anche quelle Che stimolano A fare bene Quindi non è che Io mi aspetti Che tutto Sia come dire Placido Lo so E non mi aspetto Il contrario Però Sono sincero Che è stata Una piacevole sorpresa E sono grato Quindi alle persone Che su questo cammino Ho incontrato Anche lei è stata Una delle persone Che fortuitamente Sono capitate Su questa strada E che Mi hanno accolto Con un grande sorriso Per quello che ho potuto percepire Con una grande disponibilità E apertura Questo Credo che sia Un merito Di questa città Almeno per la mia esperienza È stato così Perché comunque Accogliere una persona Che arriva da fuori E che Che è normale In qualche modo Non Come dire Dover studiare all'inizio Prima di accettare No? Non lo trovo qualcosa Di Come dire Di sorprendente È chiaro Che quando arriva Una persona Che non si conosce Si vuole capirla Si vuole Si vuole un po' Misurarla Quindi Mi sono sottoposto A questo A questo esame Non è stato facile Non è stato per niente facile Perché comunque Sapevo di Di ricoprire Un incarico Da cui molti Si aspettavano tanto Quindi Non sono arrivato qui Assolutamente Con leggerezza E con tranquillità Anzi Con grande Timore E con grande Senso di Della responsabilità Di cui Insomma Mi caricavo Però Ho trovato anche Ho trovato la possibilità Di poter esprimere Quello che Che pensavo È quello che È quello che Avevo È quello che era Diventato Il mio bagaggio In questi anni Che abbiamo Brevemente ripercorso La persona Da ultimo Che mi sento Di ringraziare È il sovrintendente Che Che mi ha dato Questa fiducia E che spero Non se ne sia pentito Devo dire Lavoriamo bene Stiamo cercando Di fare Il meglio Ovviamente Si può Si può Sbagliare Non sempre Tutto quello Che si fa È perfetto Credo che Nel mondo del teatro Come forse Nel mondo in generale Niente sia Realmente perfetto E' giusto Che sia così Diciamo di sì Però Quello che mi sento Di dire È che L'impegno C'è E si vede E devo dire E anche i risultati Non solo l'impegno E credo Che veramente Questo La città Non solo L'abbia Percepito Con forza E quindi Complimenti davvero Per quello che fa Per quello che Fate E per quello Che farete Insomma È tangibile Quindi Davvero Grazie Ne siamo Cioè almeno Per parte mia Non posso Non confermare Quello che Comunque leggiamo Sappiamo Sentiamo E quindi Davvero Complimenti Per Per quello Per quello Che fa per Torino E non solo Appunto Perché Reggio Poi È il teatro Reggio di Torino Ma in realtà Insomma Ovviamente Il bacino È molto Molto Più ampio E per quello Che Che dà Comunque A ciascuno Di noi Ma complimenti Anche per questo Curiculum Questo suo curriculum Per questo bagaglio Di esperienza È davvero Stradinario E anche Fonte Di ispirazione Io penso Se ci sono Dei giovani Che ci seguono Che ci seguiranno Davvero È una grande Spinta Ecco Per Diciamolo Credete Credete Nei sogni Perché a volte Si realizzano Insomma E non c'è bisogno Di avere Una bacchetta magica Nel senso che Realmente Se uno Crede Fermamente In un obiettivo E mette Le basi Per poterlo Realizzare A volte Ci riesce Insomma Non è facile Non ci viene regalato Niente Però A volte Si aprono Le porte Che se si Come dire Che se si accetta La sfida Di Di percorrere Poi le strade Che ci Vengono A volte Anche inaspettatamente Come nel mio caso Poste di fronte Possono arrivare Anche delle bellissime Soddisfazioni Grazie Grazie Complimenti Devo dire Alla base Come appunto Diceva È imprescindibile L'impegno La determinazione La tenacia La capacità Di non mollare E di sacrificare Ecco Anche perché Si Questo è un aspetto Che non possiamo Diciamo Eludere C'è 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 Però Ci sono Ripeto Anche le grandi soddisfazioni Sì Sì Le gratificazioni Ecco Che arrivano Complimenti davvero Grazie per essere Stato Con noi A presto Buon lavoro E saluto E ringrazio Anche chi ci segue E chi ci seguirà Sempre con la preghiera E ringraziamento Per condividere Risponderemo Per iscritto Naturalmente Ai commenti A presto A mercoledì prossimo E buon proseguimento A tutti E soprattutto Un grazie E complimenti ancora A Cristiano Sandri Direttore artistico Del Teatro Reggio Di Torino E avvocato E molto altro Grazie Buonasera Grazie Buonasera Arrivederci Buon lavoro Grazie Grazie Grazie